Tritta, piega le gambe, più in alto queste braccia. Hai le braccia troppo larghe, il peso è uguale a quello dell'altra volta? E c'è il bilanciere più lungo. La differenza totale sono un chilo, le gambe un chilo non lo sembrano. Guarda il tetto, giù il sedere e tiri su. Benissimo, scendi di più col sedere. Bene. Se fate quello, provate ad appoggiarla alla testa, se fate i piegamenti lì. E su. Buono, questo lo fai perfetto. Ma la schiena degli addominali, per esempio, non si deve appoggiare? La schiena degli addominali quasi non si poggia. Se ce la fai non poggiarla, è a sfiorare e a risalire, è il top. Va bene? Respirare quando? Quando contrai il muscolo, respiri. Quindi quando chiudi, respiri. Quando riscendi, prendi fiato. Vai. Se sfiori e risali, è meglio ancora. E' chiaro, se cerco il massimo. Se gli uova, va per migliorare. Certo. Bene. Guarda, Stefano lo fa perfetto. E' un giro così veloce del circuito. Forza, sti piegamenti in verticale, fatti bene. Bravo, bene. Benissimo.